Per registrare l'audio di sistema con Audacity bisognerà modificare questo parametro da MME a Windows Wasapi e poi questa fonte dal microfono USB agli altoparlanti, in questo caso gli altoparlanti USB, delle cuffie che ho io. In questo caso se noi andiamo a premere REC e facciamo partire un pezzo, per esempio, vediamo che inizia a registrare non la mia voce, che sto parlando adesso, ma il pezzo che ho messo. Se premiamo stop, interrompiamo la musica, potremo vedere che premendo play ha registrato l'audio del sistema. Se il video ti è servito lascia un like.